Buongiorno a tutti, buon lunedì, lunedì dove torna un po' di pioggia purtroppo allora basket, basket playoff, Milano vince ancora a Trento si porta sul 3 a 1, porta la serie sul 3 a 1 e raggiunge in semifinale Brescia nei playoff grandissima soddisfazione perché dopo la gara 1 persa in casa si aveva paura che Milano fosse di nuovo sull'altalena come è stato quest'anno tra vincere e perdere invece ha vinto la seconda in casa, ha vinto le due in trasferte, ha portato la serie sul 3 a 1 e raggiunge Brescia nelle semifinali dei playoff emozionantissimo invece la partita tra Tortona e Virtus Bologna dove a Casale il Tortona porta la serie sul 2 a 2 vince le due sfide casalinghe, si andrà a gara 5 e solo a gara 5 si vedrà chi sarà la semifinalista di questi playoff direi che quest'anno il basket ci ha regalato una montagna di emozioni e questo è veramente bello perché è uno sport che in Italia sta dando tanto e ha tanti talenti e secondo me l'Italia sforna ogni anno ottimi giocatori vedremo se Bologna raggiungerà come Milano le semifinali e vedremo quale sarà la finale playoff vi ringrazio sempre tutti per seguirmi, vi saluto e vi invito a cliccare in basso a destra su iscriviti l'iscrizione è gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport ciao